Tra segnali qualcuno sicuramente dirà è ma a distanza di pochi giorni al voto presentate la manifestazione di quest'anno, ci dà la motivazione per questo? Perché se no dopo sembra che uno voglia fare sport elettorale di qualsiasi cosa. La motivazione è molto semplice in realtà, la rassegna, il festival che andiamo a presentare adesso è il frutto del lavoro che si è sviluppato lungo diversi mesi a partire da gennaio e le prime iniziative cominciano domani, il Bloomsday cade tradizionalmente il 16 di giugno quindi le date sono obbligate. Ma domani invece personale a livello di esperienza come assessore com'è stata che è molto diversa da quello che puoi fare nella vita? L'esperienza come assessore è stata intensa e di soddisfazione, naturalmente ci si confronta con una scala di problemi che in questo momento sono particolarmente pressanti. Comunque lo rifarebbe? Ne parliamo?